oggi al mercato del sabato di sanremo c'è chi protesta e sciopera si tratta di un ambulante roberto conosciuto come l'egiziano storico commerciante che questa mattina anziché posizionare le plance con sopra la merce affissa un cartello sciopero per danni subiti causa spostamenti coatti roberto che succede oggi purtroppo non ha fatto non ho lavorato e anche se lo so che è mancato un caso che abbiamo veramente bisogno perché io mi sento danneggiato perché l'inizio ero sotto l'anagrafe e proprio l'ingresso del mercato della frutta verdura dove avvolgevo veramente la mia attività commerciale come se devi che avevo delle dell'entrata dove praticamente facevo 44 facciata e facevo lavoravo come se devi un posto che io ho comprato e perché sapevo dove la sua potenzialità di lavorare e l'avevo anche pagato tanto e comunque dopo dalla direzione del mercato siamo stati spostati contro il muro perché hanno detto che qua fanno la corsia la via di fuga a questo punto ci hanno messo contro il muro e tutto stava anche bene perché ero sempre la stessa zona che facevo lavoro e mi sono contentato lei stesso poi è venuto fuori il covid siamo andati tutti al mare e lì nei nostri posti non potevamo più tornare perché praticamente mi hanno detto che il giro del fuoco praticamente non vogliono un suono sul solaio questo non abbiamo verificato niente e questo detto da comuna non lo so se poi vero o non è vero comunque siamo stati al loro spostamento siamo venuti qua nella piazza sotto e tutto sta accettato per non fare problemi dopo un po di mese ritrovato un po di di cui di quel cliente che avevo mi cercava non sono venuto trovarmi adesso ho cominciato fare qualcosa a lavorare e di punto un bianco mi trovo di nuovo lo spostamento qua sempre nella piazza chiuso da da tutti i lati o solamente per quattro metri di visualità da dal cliente come vedi dietro chiuso fianco chiuso da due banchi e non mi sta più bene praticamente quindi mi hanno spostato in questi due anni l'ultimo due anni e quattro volta cioè come se uno ha un negozio in via metriotti e il comune arriva ti spostano in via metri agosti ma normale che non ha più valori commerciali neanche degli incassi o qualcuno ha preso questo banco l'ha messo qua così con propotenza qua purtroppo non si può discutere e noi abbiamo scritto due pecche per fare un incontro con con assessori a commercio con il sindaco con qualcosa e due pecche e non sono mai risposto se in via michele possiamo trovare qualche soluzione ben venga se no l'altra via è andare per legge e poi che si vedrà si vedrà non so non so come andremo finire ecco qua ci siamo spostati in un'altra zona del mercato di sanremo qua c'è un altro di quei banchi che è stato spostato dall'oggi al domani quella è la situazione del signor gambino che sta lavorando alle sue spalle posto su originale e comprato con 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 atto notarie le tutto più o meno vicino all'agenzia delle entrate diciamo di vicino il parcheggio nuovo è stato spostato per la causa della sicurezza e siamo andati prima al mare e poi siamo tornati di nuovo nella piazza qua sotto e l'hanno messo in un posto senza nessun criterio che lui non accettava che come come non accettavano neanche l'altre 12 che sono spostati per contentare due o tre hanno scontato hanno scontato dell'altre adesso signor gambino l'hanno messo di nuovo in un posto peggio da come era prima perché comuna fanno quella che vogliono questo e questo così con accordo con i sindacati non possiamo andare avanti così qua c'è attività e ci sono abbiamo dei fili abbiamo della dell'entrata che abbiamo delle delle cose abbiamo della merce che dobbiamo pagare e sono delle impegni che non non si può da oggi a domani cambiare tutto così come vogliono loro noi perdiamo nostri clientele in quel modo lì io non lo trovo giusto che da oggi domani tu sei qua ti mettiamo lì e poi la gente li cercano non lo trovano prima che fa ancora cliente ci devono passare altre cinque sei mesi e poi tutti questi fatica che hanno fatto per lo spostamento non ho capito perché cose a che hanno accontentato questo punto qua che lo sanno solo loro se andiamo a parlare con comune dicono eh ma vostri sindacati hanno fatto così evidentemente e ci sono della della cosa politica della cosa che che le fanno tra loro non lo so